Nelle ultime settimane il beef tra San Siro e Rozzano, come abbiamo visto, ha aggiunto altri capitoli alla propria storia. L'ultimo singolo di Shiva, Red Bars Remix, contiene infatti al suo interno una frecciatina abbastanza chiara nei confronti di Rondo. In riferimento al colore che il rapper di San Siro associa da tempo al suo immaginario. Rondo, invece, come molti ricorderanno e come abbiamo visto all'interno dello scorso video, aveva girato per Milano con diversi sub per ribadire il suo status all'interno della scena milanese. Durante questo evento Rondo ha avviato una diretta Instagram in cui rivolgeva insulti a Pachi. Alcune delle sue frasi sono poi state riprese nel singolo uscito una settimana fa Astordi. Nel brano, infatti, il rapper di Zona 7 dice Nella sua risposta Rondo fa riferimento anche ad un'altra barra di Pachi, questa volta presente all'interno del singolo Blower. Durante un live di alcuni giorni fa a Catania, mentre era sul palco del One Day, Pachi ha avuto modo di rispondere, lanciando qualche frecciatina a Rondo e più in generale al collettivo di Zona 7. Dopo aver finito di cantare Ti levo le collane, la hit in cui collabora con Gue, il rapper di Rozzano dice qualcosa al suo pubblico, riferendosi probabilmente al rapper di San Siro. Secondo lui non sono criminali come dicono, ma raccontano storie nelle canzoni, non sparano come vogliono far credere e soprattutto sono da considerare infami. Sempre nello stesso live dal pubblico si alza il coro Chi non salta di San Siro è. Pachi risponde con un gesto abbastanza esplicito, facendo finta di udinare e tenendo in mano una bottiglietta d'acqua. Fino a questo momento sia Pachi che Shiva avevano ignorato o cercato di fermare questo tipo di cori, chiedendo ai fan presenti ai concerti di lasciar parlare la musica e che queste cose erano inutili. Ecco, durante questo live a Catania le cose, almeno dal punto di vista di Pachi, sono cambiate e c'è stata la prima risposta ai cori dei fan presenti al concerto. Questi sono gli ultimi aggiornamenti del dissing tra San Siro e Rozzano. Vedremo come si svilupperà la vicenda e se ci saranno ulteriori aggiornamenti vi terremo informati come sempre. Secondo voi per quanto proseguirà questo beef? Cosa potrebbe accadere ora? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto e non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Ricordatevi anche di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le uscite di tutti i prossimi video. Grazie a tutti.